La CIS ha presentato un dossier che per quanto ci riguarda non c'è, come dire, quell'integrazione voluta dalla legge Balduz sul territorio fra servizio e territorio deospedalizzazione, ma dall'altro lato gli ospedali ritengo che devono avere quei servizi che devono garantire a fuori della collettività delle utenze in maniera completa perché se noi diamo piccole strutture nei piccoli estetali e in tutto il territorio non diamo un servizio vero, serio, completo, io ritengo che è una buona sanità. Partiamo dai territori, siamo sul distretto di Sant'Agata Meritello dove diciamo che c'è un'utenza che merita di non essere mortificata. È chiaro che l'ospedale fornisce sanità ed è un servizio primario che non può essere mercanteggiato in alcun modo. Noi sindacalmente riteniamo che è giusto preservare quello che è l'offerta sanitaria attuale, anzi andare ad implementarla facendo una giusta indagine epidemiologica per capire qual è la richiesta di sanità di questo vastissimo territorio che copre obiettivamente un entourage molto alto. Noi vogliamo che i sindaci facciano cordoni insieme ai sindacati per difendere questo ospedale che è importantissimo per la città, per l'utenza, 80.000 abitanti e anzi dobbiamo rafforzare questo ospedale. Mancano alcune questioni quasi molto importanti, ad esempio manca l'Udici, noi chiederemo l'Udici, manca ad esempio una subintensiva post-operatoria. Sono tutte questioni che noi come sindacato cerchiamo di portare avanti a livello assessoriale.